ebbene si eccoci qua telecomandino alla mano e let's go ok siamo in ascensore io poi in realtà la prima parte l'avevo già fatta per vedere come era il gioco se funzionava e tutto ora spero che riuscirò a muovermi decentemente a fare tutto senza dovermi muovere troppo sia per l'inquadratura che per eventuali robe che sono qua intorno tipo il microfono e io sto registrando da quest in questo momento quindi se vedete magari strano non lo so è per quello ah si è vero vabbè c'è tutta la parte iniziale magari dell'assalto qua dici di segnare il nome ma tutto a caso giustamente quindi ma che ci ha chiamato ecco a posto ora possiamo toglierlo prima notte poi in realtà all'inizio non si fa niente di che però meno fin dove sono arrivato perché ti spiega semplicemente il tutorial ok a posto riesco a farlo direttamente con le mani perché mi sento un po' stretto e sai che qua però non va male perché ho la scrivania quindi posso strusciare sulla scrivania e sembra condotto condotti che durano in eternità comunque non è male l'entracking qua col pollice che lo metto sui tasti spiega da solo ok siamo qua ok vedete che si è accessa la luce vabbè vabbè allora ragazzi prima volevo vedere se c'era qualche impostazione per la grafica e il movimento e così comunque ho fatto continua che probabilmente è la volta prima e adesso è la notte 2 siccome tanto nella prima non si fa niente tutto il tutorial alla fine quello che avete visto insomma e a quanto ricordo non c'erano stati i jumpscare andiamo con iniziando a giocare un po' seriamente vabbè vabbè prima o poi finirà questo tunnel è in continuo sto condotto che forse sta meglio qua che fuori eh non lo so eccoci fuori salve proviamo sento rumori ma non va non va lì ci sono degli occhi ne sono abbastanza sicuro chi è? ci sono un problema con il sintetizzer i settori default hanno stato ristorti per favore procedi all'interno dell'interno di voi ok tutto nella norma mi dicono io ci provo a credere ok ok ora non ci capisco proprio ma è un pinguino quello bene oh Circus Baby non siamo qui per giocare a scuola proviamo al baby a venire da scuola con una scuola controlla oh spento tutto perfetto chi va là allora non promette bene ok vediamo cosa c'è lì oh oh dove sono mi sento non stretto di più mi c'entra malapena la testa oddio mi faccio essermi nascosto qua che non ok i passi li sento non so sta arrivando qualcuno non lo so per sicurezza aspetterei un attimo oh cacchio non c'è nessuno non c'è nessuno tranquillo vada vada grazie grazie for for allora perché no retri no 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 ci mancherebbe altro voglio capire allora use the trigger to grip e ok ok e poi cosa devo fare provo a metterci il dito dopo forse devo stare fermo ok ok si funziona si funziona no non lo so perché perché sono stato fermo forse devo farlo solo una certa che magari c'è un limite di tempo perché e fin qua ci siamo devo tenerlo chiuso forse ma si ma ok aspettiamo intanto hello ok vai via fai i martellati lì ma ma dai purtro provaci ad aprire provaci non so non so hello dai dai chiuditi 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 ti prego allora si può chiudere si può chiudere e noi chiuderemo quella porta maledetta anche se mi sto un po' rometto il bar di aspettare qua guardiamolo bene adesso lo punto chiuditi 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 ce l'ho fatta dai basta basta non 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 tieni 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 ok non ci credo Ok, per ora siamo sopravvissuti Ci abbiamo messo un po' Ma siamo sopravvissuti E allora Dovremmo andare piano dopo Dove non ho capito Dall'ora Oh Vabbè, sono arrivato Ma è quella Ok Dobbiamo andare lentamente Alla prossima